Aveva nascosto circa 180 grammi di hashish dentro un aspirapolvere. Un 54enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai carabinieri della stazione di Cosenza Centro con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma nel corso di una perquisizione domiciliare hanno trovato la droga contenuta in tre distinti involucri inseriti all'interno dell'elettrodomestico assieme ad un bilancino e alla somma di 1000 euro tutta in banconote di piccolo taglio.